Sono notizie piuttosto chiare quelle che arrivano dal tavolo tecnico per Medio Etruria riunitosi quest'oggi. Notizie che raffreddano l'ipotesi del nuovo scalo a Rigutino e rilanciano invece quella di Creti. È stata Rete Ferroviaria Italiana che oggi a Roma, al Ministero delle Infrastrutture, si è espressa in merito alla realizzazione del nuovo scalo ferroviario. Il punto di partenza è stata l'analisi redatta da RFI. Sul tavolo le possibilità erano tre, Rigutino, Creti e il potenziamento di stazioni esistenti come quelle di Arezzo e di Chiusi. L'ipotesi Creti sembra quella che, sulla base dei dati tecnici di RFI, appare essere la più accreditata. Il documento presentato da RFI non ha però soddisfatto la Regione Toscana, rappresentata dall'assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli. Secondo Baccelli, il report non avrebbe analizzato in modo completo tutte le altre possibilità e appunto per questo sarebbero opportuni ulteriori approfondimenti. La questione rimane aperta perché è comunque necessaria un'intesa totale tra i vari soggetti istituzionali coinvolti nella questione. Grazie. 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 Grazie.